La nuova stagione è già cominciata, ma il calciomercato continua a fornire spunti interessanti anche nelle sue battute conclusive. Il Lecce chiude un altro colpo per il reparto offensivo, mentre il Foggia e il Biceglie, che dovranno ancora scendere in campo per il primo match ufficiale della Serie C, aggiungono più di un tassello ai rispettivi organici. Si parte dal Salento e dal colpo dei giallorossi. Mario Stepinski è un nuovo calciatore del Lecce. L'attaccante polacco arriva in prestito dal Verona e andrà ad ampliare il parco avanzato di Corini. Classe 95, Stepinski ha segnato tre gol nelle 21 presenze nell'ultima Serie A, molte delle quali da subentrato. L'avventura in cadetteria potrebbe essere un'occasione di riscatto. In porta invece arriva il 17enne Borbel dal Politi Misohara, squadra della seconda divisione della Romania. Dirigenza attiva anche sul fronte cessioni. Il Lecce saluta Petriccione, che dopo le belle prestazioni della scorsa stagione, torna in Serie A e firma con il Crotone. In partenza verso Nardò anche il 19enne attaccante Gabriele Gallo, protagonista nell'ultimo Lecce-Milan, per il discusso abbraccio con Anterebic dopo il gol del calciatore rosso-nero. In Serie C invece, manovra importante in casa Foggia. Dopo l'arrivo di Maiuri in panchina, i rossoneri ufficializzano quattro nuove arrivi allo Zaccheria. C'è la firma di D'Andrea, già tre protagonisti in attacco nel ritiro di Trevi nel Lazio, a cui si aggiungono i due difensori, Gavazzi e Germinio, e l'attaccante Tascini, altro nome già in mostra nel precampionato dei Satanelli. Indirittura d'arrivo l'affare Cardamone, con il calciatore che ha praticamente annunciato il suo trasferimento con una storia su Instagram. Sono addirittura otto invece gli acquisti del Biceglie dopo aver formalizzato l'iscrizione in Serie C. Colpo cittadino per i nerazzurro stellati, nome che spicca nel blocco composto da Cigliano, Maimone, Ferrani, Vitale, Laraspata e Priola. Nella macchiata di venerdì poi arriva anche la firma di Lauria, quasi fatta infine per il ritorno di Di Cosmo a Francavilla Fontana. La Virtus avrebbe trovato l'accordo con la Virtus Sentella per riportare il calciatore in Puglia, ancora una volta con la formula del prestito.